Eleonora, in arte Miss Cake Eleonora Giuffrida, dopo aver passato l'infanzia tra colori e decorazioni e dopo una laurea in fashion design, scopre la Sugar Art. Nel 2011 con il marchio Miss Cake entra nel mondo del cake design, organizzando corsi ed eventi, vive e lavora a Roma. I tuoi lavori si riconoscono per l'allegria e la giocosità, quali soggetti, quali colori e quali stili predilige nelle tue creazioni. Allora, io sono stilista, quindi tutto per me è legato al colore, alla moda e al design e per questo ogni progetto ha una sua anima e un suo stile. Come hai riconosciuto il mondo della Sugar Art e quando hai deciso di diventarne una protagonista? Ormai sono due anni e pian piano, uscendo dal mondo del cuscito e della moda, il design ha preso posto con lo zucchero e quindi è diventato Cake Design. Tra i tanti progetti che hai realizzato per la rivista Cucina Chic Cake Design, c'è anche una torta Wonky, preparata per il tuo complanno. Quali difficoltà si possono riscontrare nell'uso di forme così particolari? La torta Wonky è una torta storta, ogni piano è a sé completamente asimmetrico e quindi lì la parte da mangiare diventa la parte più difficile, dove la crema tende a scendere, il pan di spagna pende e lì è l'energia giusta dal taglio, va sistemata e crea così un supporto solido. Grazie.